ciao ragazzi e ciao ragazzi e bentornati su recensioni di bellezza oggi vi faccio vedere come ho realizzato questa base viso il make up e in particolare questa base viso con il prodotto con questo prodotto loialuron care tinted day cream di vegas cosmetics guardate fino alla fine perché ci sarà una sorpresa ad attendervi un bacio ragazze ciao ragazzi e bentornati in recensioni di bellezza oggi vi voglio fare un video make up con alcuni prodotti che ho acquistato di recente dall'azienda vegas cosmetics e in particolare vi voglio parlare di questo prodottino qui il della linea ialluron care il tinted day cream matte finish un prodotto che mi ha accompagnato per buona parte dell'estate e che adesso appunto vi voglio un po di cui vi voglio un po parlare come vedete è abbastanza utilizzato perché comunque ne basta veramente pochissimo quindi ve lo faccio vedere all'opera e vi faccio vedere anche insomma un make up con alcuni altri prodotti di questa azienda intanto parliamo di 30 ml di prodotto quindi è un quantitativo giusto secondo me perché normalmente il fondotinta diciamo in crema sono 30 ml quindi è il quantitativo normale magari quello vedete in questa confezione che peraltro è una confezione intelligente secondo me a parte che molto bella da vedere però avendo questo diciamo è una questo diciamo si preme qui su questo pulsante e praticamente il prodotto viene portato su e quindi non si spreca cioè non bisogna pucciare non bisogna fare nulla allora questo è il quantitativo che io ci vado a mettere sul viso c'è qualcuno che ne mette anche di meno però questo è il quantitativo ha una cosa che non vi ho detto che in realtà di questo prodotto esistono non esistono colorazioni o meglio esiste una colorazione dal sottotono giallo e una colorazione dal sottotono rosato quindi si va ad adattare in base al vostro sottotono io lo vado ad applicare direttamente facendo qui proprio delle dei puntini poi questo lo posso anche andare ad applicare nel contorno occhi perché ecco chi non ha grossi occhiaie può anche accontentarsi di questo io purtroppo non posso quindi devo andare poi effettuare una correzione delle delle occhiaie e adesso lo vado a distribuire e questo è quanto quindi il viso appare sicuramente più uniformato quindi anche le piccole diciamo discromie appaiono più uniformate l'effetto come vedete proprio matt tant'è che volendo si può anche evitare di mettere la cibria quindi pelle grasse perfetto perché secondo me questo è un prodotto adattissimo a chi ha la pelle alla pelle grassa chi ha per esempio anche le pelli mature che non sopportano magari di dover mettere sopra la cibria questo è perfetto perché a questo effetto vedete io adesso sotto l'avevo la mia crema al mio solare tutto quanto però ha un bellissimo effetto matt e anche si va subito ad assestare quindi secondo me anche una leggera coprenza però ecco non posso dire che sia un prodotto che possa andare bene per chi ha tante macchie o tante occhiaie o tante discromie va bene perché a me devo dire che questo effetto alla fine piace perché il risultato è molto naturale molto fresco molto portabile e soprattutto ripeto per l'estate qui a roma ancora fa tanto caldo e mettersi sopra fondotinta cipria risulta ancora difficile questo veramente stato una svolta questa estate perché io non prendendo il sole comunque avevo necessità di uniformare l'incarnato ora io vado a prendere un po del fondotinta in crema il colore che io utilizzo è lo 02 è un bellissimo colore c'è anche una colorazione che alla 0 3 che è molto chiara però devo dire che questa già è molto chiara questa qui la 02 anche se quasi sembra un po più scuro sul sulla cialda invece poi ecco vedendolo sulla diciamo applicato sul viso appare molto più diciamo più chiaro e lo vado ad applicare proprio come se fosse un correttore proprio per la sua grande capacità di coprenza non voglio effettuare una diciamo un'elevata coprenza quindi mi accontento di dove l'ho applicato è semplicemente lo vado a distribuire in questo modo andando la pressare vedete miglioro molto poi il diciamo la copertura soprattutto delle macchie delle delle discromie anche il anche il contorno occhi appare molto più diciamo corretto perché questa è una tonalità diciamo sul con sottotono sul sul giallo che va molto bene anche per la correzione delle delle occhiaie peraltro questo è un fondotinta veramente eccezionale perché è un due in uno cioè parlo chiaramente di questo cioè volendo utilizzare un solo prodotto per andare a utilizzarlo anche sul sugli occhiaie è perfetto allora io continuo a diciamo a distribuire il fondotinta allora volendo a me mi basta questo però chiaramente io adesso avendo applicato il fondotinta nel contorno occhi il fondotinta correttore nel contorno occhi io me lo vado a fissare e utilizzo la cipra in polvere libera di vegas è una cipria meravigliosa ora ve la faccio vedere però ecco estremamente estremamente sottile qualcosa penso che si vedrà però è veramente molto molto sottile questa cipria io intanto la prendo con questo piccolissimo piumino e vado a fissare nel contorno occhi il fondotinta correttore ed ecco qui allora io preferisco dargli anche una passatina sul resto del viso però ripeto non è assolutamente necessario perché parliamo di un prodotto questo qui praticamente si va a fissare da solo e da un effetto matt però a me piace anche andarci ad applicare un po di cipria sopra perché una pelle tendenzialmente mista e quindi diciamo potrebbe andarsi a lucidare un po nell'arco delle giorni della giornata quindi in questo modo tengo tutto abbastanza sotto controllo la cipria è una cipria fantastica anche mia madre adora questa cipria perché è molto sottile ma ve la faccio vedere perché è una cipria che merita vediamo se riesco a prelevarle un po di più anche questa ci sono solo due colorazioni perché ecco vedete praticamente poi si fonde con la pelle ed è la cosa bella è la morbidezza di questa cipria la setosità la finezza delle polveri perché è veramente molto molto fine e quindi questa è la mia base in quanti adesso parlando un po ci siamo un po dilungate però facendola così la mattina ci rimettiamo veramente pochissimo allora come posso completare il make up allora posso andare a prendere da questa paletta che ho composto io eccola qui e questi sono sono tutti blush e questo è un illuminante questo è un blush molto bello perché ha un color terracotta che a me piace moltissimo però secondo me si adatta anche bene per diciamo per fare un po di di contouring però ecco vi devo dire che è vira molto sul terracotta questo è un colore molto bello peraltro assomiglia un po al colore della mia camicetta ed è un colore ciliegia un po molto bello e questo è un bellissimo illuminante questa palette in questo modo la potete comporre voi quindi avete la possibilità di acquistare la palette e poi di andarci ad applicare gli ombretti o i blush gli illuminanti che volete potete fare tre illuminanti tre blush oppure due blush e un illuminante come ho fatto io tre ombretti è molto pratica vedete quanto è sottile e anche un vano anche un vano per un applicatore o due applicatori di quelli a spugnetta ovviamente poi nel retro ha questi tre forellini perché nel momento in cui la cialda è finita ma parliamo di cialde da 2,5 grammi quindi sono infinite le potete andare a sostituire semplicemente facendo pressione con uno stuzzicadenti e rimuovendo quindi la cialda finita quindi è veramente una soluzione che peraltro io a me queste sono le soluzioni che piacciono perché spesso le palette già composte non contengono le soluzioni che voglio io un'altra palette che ho composto io e che ha lo stesso concetto è questa questa a colori un po più autunnali autunnali invernali questa l'ho composta io se siete interessate vi faccio sapere quali sono gli ombretti che ho utilizzato ma guardate quanto sono grandi queste cialde sono veramente enormi un'altra l'altra palette invece che sempre di vegas è quella degli illuminanti questa è veramente una palette magnifica questa la potete già trovare così ma potete anche comporla voi per esempio potete fare 4 illuminanti e 4 blush e questa diventa la vostra palette definitiva per il viso quindi veramente vegas permette tante soluzioni personalizzabili che onestamente altre aziende non permette non permettono allora quello che io adesso vado a fare adesso per completare un po questo make up che deve essere proprio vi volevo solo far vedere diciamo la base viso è andare ad applicarci un po di blush e un po di ombretto allora vado a prendere un po di questo terracotta con l'illuminante a me questo colore veramente terracotta piace moltissimo adesso quello che vado a fare e prendo un liquid e shadow che sono gli ombretti liquidi di vegas e vado semplicemente un po ad applicarlo sul sul viso sulle sulla palpebre ecco questa anche un'altra soluzione molto veloce la mattina soprattutto quando non sia sia un po di fretta la colorazione è la numero 748 barra 3 ma non credo che la vedrete comunque c'è anche questo il il QR code per risalire direttamente al prodotto e io lo applico un pochino sul dorso della mano e poi vado direttamente sull'occhio andandolo a tamponare grazie 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 a questo volendo si può aggiungere anche del dell'ombretto in polvere io lo applico anche un pochino sotto l'occhio solo per dare un po di luminosità e poi con la matita le mettite occhi di vegas vado a fare un po di bordatura all'occhio ecco qui quindi se vogliamo proprio un trucco molto rapido molto veloce questo è l'ideale mi vado anche un po a pettinare le sovracciglia rimangono più ordinate ora per le labbra ci sono diverse soluzioni per le labbra vegas a diverse soluzioni intanto ci sono queste bellissime matite automatiche molto resistenti da delle colorazioni basiche ma che sono veramente sovrapponibili a tanti tipi di rossetto poi ci sono i rossetti quelli classici e sono con questo nuovo packaging molto carino tutto satinato con la chiusura a calamita questa che ho io è il numero 704 barra 11 che questo bellissimo rosa malva poi ci sono le le tinte le permanente lip che non sono altro che delle delle tinte labbra sotto forma di pennarello molto utilizzata questo tipo di soluzione in estate perché veramente era è praticamente una soluzione di un colore direttamente che va a tingere le labbra e che non ha bisogno di essere ritoccato perché anche quando va via il colore quello un pochino più diciamo più acceso rimangono le labbra con questo velo di colore sotto quindi sono vera è stata è veramente una soluzione molto adatta peraltro anche questa è una colorazione vicino alla mia camicetta ed è la numero 404 invece questa è la 0 5 un'altra soluzione invece sono i lip cream i lip cream che sono veramente una soluzione molto bella perché questi sono dei rossetti in crema ma che possono essere utilizzati benissimo come blush addirittura come ombretto quindi per effettuare una sorta di full face e questa in particolare è la 728 barra 5 e ci sono due versioni di questa di questi lip cream quelli completamente matte quelli con i metallic ma sostanzialmente sono base matte con dei brillantini all'interno dei micro glitter ma praticamente già l'effetto è matt comunque molto bello allora sono un po indecisa cosa farvi vedere però penso che vado di tinta labbra potrei utilizzare direttamente l'applicatore ma vi voglio anche far vedere questa matita che a me piace moltissimo è la numero 743 barra 2 poi magari vi scriverò tutto quanto un'altra volta vi faccio vedere un'altra cosa che mi è venuta in mente al momento ma me la farò vedere in futuro allora mi vado a fare il contorno labbra queste matite sono così belle che sono belle da sole peraltro questa è una colorazione questo è il colore dell'ombretto quello che ho messo ed è un color tortora bellissimo questo invece è proprio un color labbra io la definisco insomma malva molto scuro allora questa è la tinta adesso ve la faccio vedere intanto a questo nuovo applicatore a paletta è molto sottile la diciamo il prodotto il colore questo anche questo si adatta bene alla mia maglietta e come vedete nulla vi vieta adesso ve lo faccio vedere un po sfumato di andarlo ad applicare come ombretto o come blush perché vedete si sfuma benissimo non fa macchia quindi chiaramente andando ad applicare una quantità minima sul viso la sugli occhi ed è molto molto resistente veramente tanto resistente veramente bello perché il colore è molto io lo trovo molto invernale questo colore cioè mi piace molto perché quasi un color bacca insomma un colore molto bello per l'inverno per questo vi dico ci sono dei colori molto basici quindi c'è un bel adesso ve ne faccio vedere qualcuno di quelli che ho c'è il classico rosso che però io non uso molto questo lo usa più mia mamma poi questo è uno dei metallic ed è la referenza 0 3 questo è quello che ho messo adesso poi c'è quest'altro sempre tra i metallic che la referenza 728 barra 2 che è un bellissimo beige dorato e poi c'è questo che forse un pochino più si avvicina al colore della mia maglietta che era invece la referenza 02 sono tutti diciamo rossetti ma se riesco a prendere una sola volta che li potete utilizzare appunto sul labbra viso e occhi e sono molto molto resistenti perché sono anche resistenti appunto alla faccio vedere un altro prodotto che è veramente uno dei pezzi forti di vegas che il sexy lashes mascara con acido ialuronico è un mascara molto molto bello primo dei prodotti più venduti di vegas ed è un mascara e con questo scovolino a doppia curvatura io sono un amante di questo tipo di scovolini perché avendo le ciglia un po rade e comunque molto sottili li va a pettinare proprio bene quindi procedo prima con la parte incurvata e poi con la parte più cicciotta per dare lunghezza vorrei appunto farvi vedere l'effetto dell'occhio col mascara e dell'occhio senza cioè proprio un altro un altro effetto le mie ciglia appaiono molto più corpose più incurvate mi piace molto l'effetto perché rimane molto morbido come come mascara quindi non irrigidisce le ciglia non 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 le secca e anzi anche un effetto curativo perché la presenza dell'acido ialuronico e delle cene naturali va appunto a curare le ciglia che appaiono nel tempo più lunghe ragazze è l'effetto con un make up completo con i prodotti vegas alcuni dei prodotti perché vegas a livello di make up a tantissimi prodotti però questi sono veramente alcuni e quelli che io utilizzo su base quotidiana ma questo diciamo video era per farvi conoscere un po appunto questo prodotto che è la tinta dei cream della linea ialuron care troverete in descrizione sia il mio articolo recensione del blog ma anche un codice sconto che potete utilizzare per il primo acquisto su vegas cosmetics su qualsiasi prodotto su tutti i prodotti quindi potete utilizzarlo se volete solo sul make up sulla skin care sugli integratori sul device sui beauty device quindi potete utilizzarlo dove volete questo però è il risultato finale con questa con questo prodotto io mi ritengo particolarmente soddisfatta e devo dire che nonostante appunto non sia un fondotinta con ma una crema in uniformante devo dire che il risultato è molto molto bello molto luminoso fresco a me devo dire che questo risultato piace tantissimo io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video